Ragazzuoli, ma diciamoci un attimino la verità tra di noi, pur parlè, ma quanto è bello vederli tutti quanti ridotti così e in questo caso sto parlando dei media perché i tifosi sono certo nel momento in cui verrà ufficializzato Vlaovic avremo tempo, modo e maniera per vedere quelle che sono state le reazioni. Piccolissimo spoiler, ancora sto cercando dei commenti abbastanza importanti, ma siamo già una quarantina di commenti che ho salvato, quindi voi iniziate già nel dubbio a prepararvi psicologicamente per quello che arriverà perché sono certo che non ve ne pentirete, però in questa circostanza qui l'attenzione va soprattutto per forza di cose a quella che è al momento la narrativa riguardo Vlaovic perché ovviamente come un pochino tutti quanti, a parte la Gazzetta dello Sport e questa volta lo dobbiamo riconoscere, tutti ma letteralmente tutti sono proprio caduti dal pero nel momento in cui è stato accostato Vlaovic alla Juventus e nel momento in cui per forza di cose poi è stato raggiunto quest'accordo tutte le varie tv hanno avuto quella decina di minuti, quarto d'ora circa, in alcuni casi il tempo è stato anche un pochino più abbondante dove c'è stato letteralmente un clima da funerale, tutti nella disperazione più totale e in questi casi che cos'è che si fa ovviamente per cercare di compensare un attimo il tutto? Ovviamente si inizia a raccontare il fatto che di conseguenza nel momento in cui la Juventus è andata a prendere Dusan Vlaovic a partire dalla prossima sessione di calcio mercato, se non proprio addirittura in questa dovrà iniziare a smantellare un pochino tutto, arriva Vlaovic, benissimo, Di Bala non rinnoverà, è una cosa certa, scontata, tirata nella schiena, poi non solo ovviamente Paolo Di Bala, anche De Ligt nel momento in cui prendi Vlaovic, Di Bala e De Ligt sicuramente andranno via perché non può essere altrimenti e la cosa meravigliosa è che questo lo sta dicendo chi fino a due giorni prima non sapeva neanche dell'esistenza della trattativa Juventus Vlaovic e questa cosa è dal mio punto di vista semplicemente meravigliosa, che poi attenzione come al solito bisogna fare sempre delle premesse, delle precisazioni, non sto a dire che sicuramente al 100% De Ligt e Di Bala rimarranno alla Juventus e non può essere che così, attenzione può sempre succedere che alla fine Di Bala non rinnoverà e De Ligt andrà via, però non è che la Juventus lo deve fare perché altrimenti fallisce. Io non penso che la Juventus sia così tanto stupida da riniziare un progetto di una certa ambizione andando a prendere Vlaovic a gennaio praticamente il trasferimento più oneroso della finestra di mercato invernale per poi andare a vendere così a cuor leggero quelli che sono i due pilastri oltre a Federico Chiesa di quest'attuale Juventus e che oltre a loro tre non dico che ci sia il vuoto più totale, però insomma sono quelli di un livello un pochino superiore rispetto a tutti gli altri. Io onestamente per quanto riguarda per esempio il caso De Ligt, nel momento in cui magari vede che la Juventus continua ad avere progetti ambiziosi, continua a fare acquisti abbastanza importanti come quello di Dusan Vlaovic, magari riesce ad entrare in Champions League, io non so quanto lui stesso a cuor leggero decida così in scioltezza di lasciare la Juventus, oltre al fatto che comunque anche la Juventus deve dire sì a possibili offerte per De Ligt. In questo caso poi interviene tra le altre cose il famoso indice di sostituibilità di un giocatore, nel senso che quanto conviene alla Juventus andare a cedere un giocatore come De Ligt considerando che i suoi compagni di reparto sono Chiellini e Bonucci che non danno più garanzie a medio-lungo termine poi, vuoi per i problemi muscolari, vuoi soprattutto per i problemi anagrafici che comunque bene o male contano nonostante si parli di due mostri sacri, l'età inizia ad essere anche abbastanza importante per questi due giocatori qui. E tu nel momento in cui magari decidi di accettare un'offerta per De Ligt che non ho dubbi sul fatto che eventualmente sarà particolarmente cospicua, tu dovrai comunque intervenire sul mercato per andare a prendere un giocatore forte, quantomeno il più possibile simile a lui a livello di bravura, a livello d'età e quando fai questa serie di analisi di conseguenza poi l'identikit ti porta ad un giocatore dal valore abbastanza importante, quindi non so quanto possa convenire. È ovvio, ti arriva un'offerta di 100 milioni per De Ligt considerando che a partire dalla prossima estate, se non sbaglio a bilancio sarà sui 35 milioni, posso capire il fatto che sia molto difficile dire di no a cuor leggero, quello assolutamente, ma non sta appunto a significare che la Juventus dovrà necessariamente, obbligatoriamente dire sì ad una partenza di De Ligt, così come non è detto che nel momento in cui vai a prendere Vlaovic non hai la possibilità di rinnovare il contratto a Paolo Di Bala, anzi tra le altre cose come avrete letto a partire da ieri Antun ha avuto il via libera dal CONI in sostanza ed è riconosciuto come procuratore, quindi già nei prossimi giorni ci potranno essere delle novità, spero definitive per quanto riguarda questa situazione legata a Paolo Di Bala, anche perché tanto arriva bene, ha sempre parlato di febbraio a partire da lunedì, martedì, quando è? Saremo a febbraio, quindi il tempo anche fortunatamente dopo due anni mi sento di dire sta iniziando a stringere ed anzi proprio perché tu sei andato a prendere Dusan Vlaovic, in teoria devi far di tutto adesso per andare a rinnovare Paolo Di Bala, innanzitutto perché io penso sia proprio il compagno di reparto ideale e soprattutto perché entrambi credo che abbiano delle caratteristiche che possano dare la possibilità di mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche dell'altro un pochino come l'accoppiata Higuain-Dibala, io vedo molto una situazione simile ed è proprio per questo motivo qui, per dare anche una continuità ad un progetto tecnico che la Juventus dal mio punto di vista ovviamente dovrà cercare di far di tutto per riuscire a rinnovare anche Paolo Di Bala e onestamente nel momento in cui magari decidi di fare un investimento particolarmente oneroso come quello di Dusan da Belgrado poi reggi anche fino a una certa il discorso legato ai soldi che hai a disposizione al netto del fatto che tu comunque da qui al 30 giugno avrai la possibilità di liberarti di gente che insomma penso che abbia dimostrato decisamente di meno di Di Bala dato che è un termine che spesso e volentieri viene fuori proprio dei dirigenti della Juventus avrai la possibilità di liberarti di tanti stipendi ad oggi quello di Perin, quello di De Sciglio, quello di Bernardeschi fino a prova contraria anche quello di Quadrado ma lì penso che sia un pochino tutto fatto come si dice anche per Di Bala ma qui fino a che non ci saranno le firme e le ufficialità lasciamo sempre il beneficio del dubbio questa volta davvero in estate dovrai far di tutto per levarti dei maroni i sette passa milioni netti di Ramsey si sa che ci sono delle offerte per qualche giocatore della Juventus come per esempio Bentancur quindi sai comunque anche dal punto di vista no di un'ottica rinnovo di Di Bala i milioni da dare a lui volendo sai anche dove trovarli da tutti quegli esuberi che hanno dimostrato nettamente di meno e onestamente prendono un pochino troppo soprattutto poi se guardiamo quello che è stato il rendimento nel loro percorso alla Juventus è ovvio che molto dipende per forza da come andrà a finire la stagione in caso di Europa League c'è poco da dire se magari il De Ligt ti vuole andare via quello senza ombra di dubbio però nel momento in cui decidi di fare un investimento come quello di Vlaovic anche proprio a livello di logica mi viene da pensare non puoi andarti a sputtanare non rinnovando Di Bala andando a vendere De Ligt che altrimenti è un gatto che si morde la coda se decidi di fare un investimento così oneroso nel medio lungo periodo e soprattutto perché secondo me vuoi cercare di convincere quelli che sono i veri pilastri di questa Juventus a rimanere per ripartire carichi la prossima stagione al netto del fatto che comunque ci dovranno essere altre operazioni in entrata per cercare di completare la rosa il più possibile visto che comunque anche con l'arrivo di Vlaovic certi problemi rimangono alcuni dei quali anche abbastanza evidenti soprattutto lì in mezzo e lì comunque si vedrà anche che cosa succederà a partire da luglio quando torneranno i vari fagioli, Rovella e quant'altro se deciderai di puntare su di loro o deciderai di attuare ormai la famosissima e celeberrima Plus Valentus li vedremo però comunque tornando al discorso iniziale no non è che nel momento in cui vai a prendere Vlaovic tu devi necessariamente vendere De Ligt e non hai la possibilità di rinnovare Paolo Di Bala capisco che molti in particolar modo giornali, siti, televisioni e quant'altro siano rimasti traumatizzati da questo acquisto della Juventus anzi ancora no perché le ufficialità devono arrivare però insomma c'è un clima da funerale da qualche giorno diciamo così e questo è proprio palese, evidente ma non è detto che poi di conseguenza dovrai vendere tutti quanti perché fosse per Sky l'anno prossimo torneremo a giocare non lo so all'Olimpico neanche i soldi per l'Allianz Stadium, per i magazzinieri, per gli Stewart, un cazzo però penso onestamente che la realtà sia un tantinino diversa ma è semplicemente meraviglioso vederli così. Detto questo nulla io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!